Per rispondere alle conseguenze e alle criticità che possono derivare dall'attività vulcanica, il sistema di protezione civile organizza le azioni operative attraverso la pianificazione. Ciò che governa le decisioni operative è il vulcano. A ciascuno stato di attività del vulcano corrisponde a un livello di allerta, identificato attraverso la combinazione dei parametri di monitoraggio, dei fenomeni in corso o attesi e dei possibili conseguenti scenari di impatto. I quattro livelli di allerta sono rappresentati con i colori verde, giallo, arancione e rosso e indicano stadi crescenti di disequilibrio del sistema vulcanico. I livelli di allerta sono dichiarati dal Dipartimento della protezione civile in stretto raccordo con la struttura regionale sulla base delle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dalla Comunità scientifica nazionale, sentito il parere della Commissione Grandi Rischi. A partire dai livelli di allerta e sulla base di valutazioni di protezione civile vengono dichiarate le fasi operative, che possono essere di attenzione, preallarme o allarme, e definiscono le azioni di contrasto preventivo agli eventi vulcanici, di preparazione e di gestione dell'emergenza. Tali azioni sono attuate dal sistema di protezione civile ai vari livelli istituzionali, da quello nazionale, regionale, provinciale e comunale, sulla base delle rispettive competenze e responsabilità. A causa della variazione di alcuni parametri derivanti dal monitoraggio del vulcano, dal 2012 per i Campi Flegrei è stato dichiarato il livello di allerta giallo e la fase operativa di attenzione. Il territorio dei Campi Flegrei è interessato da un'elevata pericolosità vulcanica e poiché nell'area vivono circa 500.000 persone, anche da un elevato rischio. Questo comporta che la pianificazione di protezione civile sia di livello nazionale, con il coinvolgimento quindi di tutte le strutture operative e componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, quindi per esempio dei comuni, regioni, vigili del fuoco. Dagli studi effettuati sulla frequenza delle eruzioni avvenute negli ultimi 5.000 anni di attività dei Campi Flegrei, è emerso che in caso di riattivazione del vulcano si avrebbe circa il 95% di probabilità che si verifichi un'eruzione minore o uguale a quella di taglia media. Pertanto l'aggiornamento della pianificazione nazionale di protezione civile si basa su questo tipo di eruzione. Tra i fenomeni vulcanici attesi per un'eruzione di taglia media ci sono anche i flussi piroclastici, che costituiscono i fenomeni più pericolosi che possono interessare la zona rossa. A causa della loro elevata velocità e temperatura possono scorrere per diversi chilometri, distruggendo tutto ciò che incontrano. Partendo dalle conoscenze scientifiche sono state perimetrate le zone della pianificazione, denominate rossa e gialla, che sono alla base del piano nazionale. La zona rossa è l'area per cui l'evacuazione preventiva è, in caso di allarme, l'unica misura di salvaguardia per la popolazione. È infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici, che rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. In zona rossa ricadono sette comuni e vivono circa 500.000 persone. I comuni sono Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte dei comuni di Giuliano in Campania e Marano di Napoli e alcuni quartieri di Napoli. La zona gialla, esterna a quella rossa, è l'area che, in caso di eruzione, è esposta ad un'importante ricaduta di ceneri vulcaniche, per la quale sono previste misure di allontanamento temporaneo della popolazione che risiede in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili dall'accumulo di ceneri. Nella zona gialla ricadono sette comuni, dove vivono oltre 800.000 persone. Dopo una fase di condivisione e concertazione tra il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Campania e i comuni interessati, tali zone sono state definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, che ha anche individuato i gemellaggi tra i comuni della zona rossa e le regioni e le province autonome che accoglieranno la popolazione evacuata. Le attività di pianificazione sono state sviluppate sulla base degli indirizzi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 febbraio 2015 per il Vesuvio e i campi flegrei. Il piano per il rischio vulcanico ai campi flegrei è di livello nazionale. Non è quindi elaborato da una singola amministrazione, ma costituisce il risultato di un complesso lavoro di sinergia e condivisione tra il Dipartimento della Protezione Civile, la comunità scientifica, la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, i comuni della zona rossa, le regioni e province autonome gemellate e molte altre istituzioni ed enti. Ognuno partecipa al lavoro di pianificazione contribuendo a vari livelli. I comuni rivestono un ruolo fondamentale attraverso i piani comunali, gli altri enti e istituzioni attraverso i piani di settore devono garantire la risposta alle diverse fasi operative e l'integrazione e l'armonizzazione delle proprie azioni con quelle delle altre amministrazioni ed enti. In tal senso sono stati elaborati i piani di settore delle forze armate, dei vigili del fuoco, dell'ordine pubblico, del settore sanitario, quelli per la salvaguardia dei beni culturali, per le telecomunicazioni di emergenza, per la funzionalità dei servizi essenziali. Nella fase di attenzione è previsto un aumento delle attività di monitoraggio, la verifica delle pianificazioni, un maggiore raccordo informativo istituzionale e attività di informazione alla popolazione. Nella fase di preallarme è prevista la dichiarazione dello stato di emergenza. Il coordinamento delle attività avviene attraverso l'attivazione di un centro di coordinamento nazionale sul territorio, la DICOMAC, che lavora in raccordo con gli altri centri operativi attivati a livello locale. In questa fase sono previste attività per la salvaguardia dei beni culturali, l'evacuazione delle strutture sanitarie e degli istituti penitenziari. Nella fase di allarme è previsto l'allontanamento di tutta la popolazione presente nella zona rossa. Già nella fase di preallarme le persone che vogliono allontanarsi possono farlo, ma solo autonomamente. Potranno trasferirsi presso una sistemazione alternativa, ad esempio una seconda casa, da parenti e amici, casa in affitto, ricevendo un contributo economico da parte dello Stato. Alla dichiarazione dell'allarme invece tutta la popolazione deve abbandonare la zona rossa e può scegliere se farlo in modo autonomo o assistito. Il tempo complessivo stimato per questa operazione è di 72 ore, cioè tre giorni. Il piano di allontanamento elaborato dalla regione Campania prevede le prime 12 ore per permettere alle persone di prepararsi e predisporre le necessarie misure di regolazione del traffico. Le successive 48 ore per la partenza contemporanea, ma cadenzata, della popolazione da tutti i comuni della zona rossa, secondo un cronoprogramma definito nei piani comunali. Le ultime 12 ore come margine di sicurezza per la gestione di eventuali criticità e per consentire l'allontanamento anche degli operatori del sistema di protezione civile. Per l'allontanamento assistito è stato definito uno schema di gemellaggi che prevede il trasferimento della popolazione dei comuni della zona rossa nelle regioni e province autonome italiane. In questo caso lo spostamento assistito delle persone dalle aree di attesa definite nel piano di protezione civile di ogni comune alle aree di incontro individuate fuori dalla zona rossa avverrà con pullman messi a disposizione dalla regione Campania. Il loro successivo trasferimento verso i punti di prima accoglienza nelle regioni e province autonome gemellate è previsto con modalità diverse pullman, treni, navi a seconda della destinazione. Invece per l'allontanamento autonomo con il proprio mezzo di trasporto dovranno essere eseguiti percorsi stradali di uscita dalla zona rossa stabiliti nel piano di allontanamento della regione Campania. La regolazione del traffico in fase di allontanamento autonomo sarà gestita attraverso l'attivazione di posti di controllo del traffico che garantiranno il corretto cadenzamento del flusso veicolare in uscita dalla zona rossa. I piani servono ad analizzare tutti gli aspetti di una situazione complessa e a prepararsi per gestirla al meglio. La conoscenza approfondita delle cose aiuta ad affrontare le situazioni reali, anche gli imprevisti, ma un piano funzionerà solo se tutti gli attori sapranno interpretarlo al meglio. Tra gli attori ci sono anche i cittadini e quindi è fondamentale conoscere che cosa prevede il piano del proprio comune e in caso di emergenza agire di conseguenza in maniera preparata e consapevole. Grazie.